30 dicembre 2006 Buonasera da David Sassoli Buonasera da Monica Maggioni Edizione straordinaria, le notizie che rimbalzano da Baghdad riferiscono che Saddam Hussein verrà giustiziato entro le 6 ora locale le 4 in Italia, l'impiccagione dunque è imminente Insomma Monica, un'altra lunga giornata a Baghdad Un'altra lunga giornata, un'altra lunga notte e come dicevi tu, le ultimissime notizie le ultimissime notizie arrivate in presa diretta sono le parole di questo ufficiale giudiziario che dovrebbe essere uno di quelli che dovrebbero certificare l'avvenuta morte di Saddam Hussein quando essa avverrà che ha detto, mi hanno appena chiamato per dirmi che dovrò essere presente alle 5 e mezza locali ora di Baghdad, quindi erano 20 minuti fa per noi in Italia per certificare la morte del Raissa Grazie a tutti Grazie a tutti